Ciao amiche e ciao amici, come smettere di dargliela per coinvolgerlo? Questo video è per rispondere a Niki che mi segue su YouTube e che, diciamo, dopo due settimane di sesso con un ragazzo si è resa conto che lui si è raffreddato, si è distaccato, quindi sarebbe opportuno dargliela di meno per far crescere il desiderio perché se l'hai siancato di sesso in due settimane e l'hai fatto fare una overdose, questo ormai, diciamo, tenderà ad andarsi a cercare un'altra, diciamo così e allora devi recuperare la situazione, però tu dici, come faccio a dirgli non te la do più perché non voglio fartela, diciamo, di nuovo generare eccitazione? Beh, il modo migliore è quello di dirgli, guarda, non sono mica più sicura di te, è meglio che non facciamo più sesso perché devo riflettere un attimino, non sono mica più sicura di questa storia, in realtà non c'era nessuna storia ma tu gli dici che non sei sicura di qualcosa che non c'è, perché se fai in questo modo ottieni due o tre benefici dici uno che, diciamo, è una difesa antizzoccola, nel senso che lui non potrà darti della zoccola perché tu gli dici, guarda, che penso che non ci sia più, non ci sia, non sono sicura di questa relazione quindi non te la do, quindi automaticamente gli dici, prima che te la davo ero sicura della relazione non sono una puttana che la dà così tanto per darla, infatti adesso che non sono più sicura non te la do e poi, diciamo, inneschi il meccanismo che nel momento in cui gliela ridarai di nuovo vuol dire che ci sarà di nuovo, ci sarà una relazione quindi, e questo è il modo migliore per, diciamo, trovare le scuse per, beh, inizialmente magari poi con alcune scuse poi dopo vai, cali questo asso e vedi d'altra parte la reazione che c'è bene, per questo video è tutto, se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta, mi raccomando, la domanda va postata nei commenti ai video non mandatela via mail, whatsapp, facebook, messenger o quant'altro perché non riesco a gestirle, mandatele nei commenti ai video e poi riceverete un video di risposta e se questo video ti è piaciuto, metti un like e condividilo con i tuoi amici ciao